Tutto nasce da una perquisizione in una villetta al numero 3621 di lungomare Cristoforo Colombo a Palermo, all'Addaura, quasi al confine con Mondello. È il 17 febbraio del 2005. La casa è quella di Massimo Ciancimino, che è indagato per riciclaggio. Lui è fuori città, viene informato della perquisizione e comunica al personale di casa di collaborare ed aprire la cassaforte. Passano gli anni. Massimo Ciancimino, interrogato dai magistrati, torna su quella perquisizione e si domanda come mai non fu mai vista e non fu aperta la cassaforte. Si trattava pur sempre di un'indagine per riciclaggio e racconta ai magistrati che in quella cassaforte si trovava il cosiddetto papello, cioè la richiesta di Cosa Nostra per interrompere le stragi nella trattativa con lo Stato, sia il contropapello, la controproposta di Vito Ciancimino a Cosa Nostra. Eppure, nel verbale della perquisizione, non c'è traccia di quella cassaforte e del suo contenuto. Il 30 di luglio dello scorso anno, i sostituti procuratori di Matteo e Scarpinato tornano in quella villetta e si rendono conto che la cassaforte è impossibile non vederla. Il 10 marzo di quest'anno viene sentito il Maggiore Antonello Angeli, responsabile di quella perquisizione, e viene accusato di favoreggiamento aggravato per aver aiutato più persone ad eludere le investigazioni in merito alla vicenda della cosiddetta trattativa tra i vertici di Cosa Nostra e i rappresentanti dello Stato, omettendo dolosamente di sequestrare documenti di evidente interesse processuale. A favore di questa accusa non ci sarebbe solo l'ispezione dei magistrati lo scorso luglio e le dichiarazioni di Massimo Ciancimino, ma ci sarebbero anche le dichiarazioni di altri testi su quello che è accaduto durante e successivamente la perquisizione. In altre parole, qualcuno tra i partecipanti a quella perquisizione avrebbe raccontato che il cosiddetto papello, che per il generale Morin non sarebbe mai esistito, in realtà fu trovato, ma rimesso nella cassaforte da dove era stato preso e né del papello né della cassaforte fu mai fatta menzione. Davanti alle contestazioni dei magistrati, il Maggiore Antonello Angeli, ora in forza al Gruppo dei Carabinieri per la Sicurezza del Presidente della Repubblica, ha deciso di avalersi della facoltà di non rispondere.